quando attraverso i paesini così nel cuore della notte sono completamente deserti sembrano veramente dei paesi fantasmi dove non vive più nessuno solo ogni tanto ricordarti che c'è qualcuno su Nicania che ti sentono robita l'unico rumore che si sente è dentro qualche rumoretto della bici ma molto pochi di grigli e delle cigale ecco ancora è spuntata una luce della macchina che probabilmente sta a 6-7 km da qui una strada rettilinea in notte fonda e queste luci che ho qui di fronte a me credo proprio che siano il confine tra Serbia e Ungaria ho provato a passare la frontiera ma mi hanno fermato le guardie molto vivamente e celermente diciamo così mi hanno invitato ad allontanarmi subito di almeno 500 metri dal confine e quindi mi sono accampato proprio quasi a circa 500 metri mi hanno detto che domani mattina alle 7 la frontiera apre e quindi potrei passare domani mattina nel frattempo nel frattempo vedo comunque battuglia nei confini con le macchine con le luci mi sembra quasi un po' eccessivo siamo in Europa, Serbia e Europa, tutto però forse mi sfugge qualcosa vabbè vedremo intanto provo a dormire buonanotte grazie